Buongiorno a tutti, buon venerdì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video trattiamo il tema delle pensioni minime. Sono tanti commenti che ogni giorno lasciate sotto i nostri video chiedendo se ci sarà un nuovo aumento delle pensioni minime per via della rivalutazione nel 2025. In questo video vediamo di fare immediatamente il punto della situazione a riguardo. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci. Grazie. Come dicevamo in questo video presteremo attenzione alle pensioni minime. Partiamo dicendo che con la legge di bilancio 2023 è stata introdotta una rivalutazione straordinaria come ormai noto applicata per il bienio 2023-2024 con una aumento pari delle pensioni minime al 2,7 per cento quest'anno per tutti i pensionati sia under che over 75 a differenza invece di quanto era avvenuto l'anno precedente in cui gli over 75 avevano avuto una rivalutazione più elevata. Tuttavia è legittimo chiedersi se questa rivalutazione straordinaria verrà confermata anche per il prossimo anno ovvero il 2025 al momento se il governo non interverrà nella prossima legge di bilancio è probabile che le pensioni minime tornino ad essere quelle della pre rivalutazione ovvero scenderanno a meno di un intervento specifico. Secondo le prime stime contenute nel DEFO ovvero il documento di economia e finanza la prossima rivalutazione potrebbe essere solo dell'1,6 per cento. Questo comporterebbe un abbassamento delle pensioni minime nel 2025 quindi risulterebbero addirittura inferiore a quelle del 2024. Una bella beffa. Resta da vedere se il governo quindi interverrà sulla questione entro la fine dell'anno considerando anche le fasce perequative le rivalutazioni ridotte per le pensioni che superano quattro volte il trattamento minimo. Questo dunque è il probabile scenario che si prospetta per il prossimo anno in tema di pensioni minime. Non resta che aspettare i prossimi mesi per capire come si muoverà il governo a riguardo. Voi cosa ne pensate di questo scenario? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti del video.